È stato estradato ieri dalla Repubblica Dominicana e si trova attualmente presso il carcere genovese di Marassi il trafficante di droga centroamericano noto con il soprannome di Flaco, ritenuto insieme a tre complici uno dei responsabili della morte avvenuta a febbraio 2022 del Corriere della Droga i cui resti erano stati rinvenuti nella zona di Carpena alle pendici del Monte Parodi. Sanchez Ramirez, questo il nome dell'arrestato, è giunto ieri all'aeroporto di Milano Malpensa scortato da personale dell'Interpol dal paese in cui era stato arrestato lo scorso gennaio. Da un luogo del Sud America dove la vittima, un settantenne venezuelano, sarebbe stato reclutato da trafficanti locali e per necessità si sarebbe prestato ad ingerire ovuli di cocaina che in seguito gli avrebbero causato la morte. Trasportato nel bosco ai piedi del Parodi, il cadavere sarebbe stato poi sezionato per prelevare la droga lasciando che i resti venissero dilaniati dagli animali affinché cancellassero ogni traccia. Gli indagati avrebbero poi piazzato la cocaina sul mercato spezzino garantendo guadagni in parte destinati a finanziare l'arrivo in Italia di altri corrieri secondo un sistema collaudato. Nei giorni seguenti al rinvenimento dei resti umani il ricercato si era infatti allontanato dalla Spezia e successivamente venuto a conoscenza dell'arresto dei suoi complici in Italia e del provvedimento di cattura a suo carico si sarebbe procurato un passaporto falso con il quale avrebbe acquistato un biglietto aereo per raggiungere la Repubblica Dominicana. Sanchez Ramirez sarà quindi processato e sconterà la sua pena nel nostro paese.